L'Odissea è famosissima, ma diamo comunque una ripassata alla trama. Questo poema narra il ritorno in patria di Odisseo, o Ulisse, dalla guerra di Troia. C'erano tutta una serie di questi poemi sui ritorni degli eroi greci da Troia, chiamati Nostoi, appunto ritorni. Ulisse aveva lasciato in patria, cioè l'isola di Itaca, sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco. Il libro primo si apre con un concilio degli dei per decidere la sorte di Ulisse, che è in viaggio da molti anni ed è trattenuto sull'isola di Ogigia dalla ninfa Calypso, che vorrebbe farne il suo sposo. Atena, protettrice di Ulisse, sostiene che è venuto il tempo perché l'eroe torni a casa. Zeus concorda e decide di inviare a Calypso un messaggero che le ordini di lasciar partire Ulisse. I libri dal secondo al quarto narrano delle vicende del figlio di Ulisse, Telemaco, che parte alla ricerca del padre. I libri dal quinto al dodicesimo narrano invece di Ulisse, che grazie ad Hermes, il messaggero degli dei, viene liberato da Calypso. Costruisce una zattera per andare via dall'isola, ma fa naufragio a causa del dio Poseidone che gli è ostile, approdando sull'isola dei Feaci, dove viene accolto con benevolenza dal re Alcino. Alla corte Ulisse rivela la sua identità e racconta tutte le sue disavventure, e cioè che aveva lasciato Troia insieme ad alcuni compagni, aveva raggiunto il paese dei Ciclopi dove era stato fatto prigioniero da Polifemo ed era riuscito a fuggire dopo averlo accecato. Poi Polifemo aveva invocato contro di lui la vendetta del padre Poseidone. Dopo altre avventure era giunto sull'isola della Maga Circe, che aveva trasformato tutti i suoi compagni tranne uno in maiali, ma poi Ulisse, grazie all'aiuto di Hermes, che gli aveva dato un infuso contro gli incantesimi della Maga, l'aveva costretta a restituirli i compagni in forma umana, ed era rimasto per un anno con lei, divenendone l'amante. Poi, desideroso di rientrare a Itaca, era sceso nell'oltretomba per chiedere consigli all'indovino Tiresia, che gli aveva rivelato la ragione dell'avversità di Poseidone. Ripreso il viaggio, era riuscito a resistere al canto delle sirene, facendosi legare all'albero della nave e otturando con la scera le orecchie dei compagni. Poi aveva evitato l'insidia dei mostri marini Scille e Cariddi. Era infine sbarcato sull'isola del Dio Sole, dove i suoi compagni avevano usato uccidere e mangiare alcune giovenche sacre ad Apollo, attirando l'ira del Dio, che aveva scatenato contro di loro una terribile tempesta. Dal naufragio si era salvato solo Ulisse, che era approdato sull'isola di Ogigia dove era stato accolto da Calipso. Terminato il racconto, gli viene preparata una nave per tornare ad Itaca, dalla quale mancava ormai da vent'anni. Nel tredicesimo libro Ulisse fa finalmente ritorno ad Itaca, dove però la corte è occupata dai proci, i pretendenti al trono che volevano indurre Penelope a sposare uno di loro. Ma Penelope era rimasta fedele ad Ulisse, promettendo che avrebbe scelto tra di loro un nuovo marito quando avesse terminato di dessere una tunica per il suocero Laerte, ma rimandando ad oltranza il momento della scelta, disfacendo di notte la tela che aveva tessuto di giorno. Per evitare che al suo arrivo Ulisse sia riconosciuto, Atena lo trasforma in un mendicante. Poi Ulisse incontra il suo fedele servitore e guardiano di porci, presso il quale viene ospitato di nascosto. In seguito Telemaco, consigliato da Atena, rientra ad Itaca e si reca ad incontrare Ulisse, che gli rivela la propria identità. Insieme progettano di vendicarsi sui proci. Ancora travestito da mendicante, Ulisse arriva al palazzo reale e si commuove quando il suo vecchio cane Argo lo riconosce, gli si avvicina e dopo averlo salutato muore. A palazzo subisce gli insulti e gli scherni dei proci. Viene ospitato da Penelope e lavato dalla vecchia nutrice, che lo riconosce ma è costretta da Ulisse a tacere. Il giorno dopo, sul suggerimento di Atena, Penelope spinge i proci ad organizzare una gara per conquistare la sua mano, cioè una competizione di tiro con l'arco servendosi dell'arco di Ulisse, che nessuno, a parte lui stesso, è mai riuscito a tendere. Nessuno dei pretendenti riesce a tendere l'arco dell'eroe e a quel punto, tra l'ilarità generale, il finto mendicante chiede di partecipare a sua volta. Ulisse naturalmente vince la gara e poi rivolge l'arco contro i proci, uccidendoli tutti con l'aiuto di Telemaco. Penelope non riesce a credere al ritorno del marito e mette alla prova la sua identità chiedendogli di trasportare il loro letto nuziale. Ma Ulisse conosce il segreto del letto, che non può essere trasportato perché lui stesso lo ha intagliato nel tronco di un albero d'ulivo. Penelope finalmente lo riconosce e due si ricongiungono. Nell'ultimo libro Ulisse si ricongiunge anche con il padre Laerte, ma i parenti dei proci vogliono organizzare una vendetta contro Ulisse. Ma Atena fa placare gli animi riportando la pace sull'isola di Itaca. Andiamo ora a vedere il primo verso dell'Odusia di Livi Andronico, che riproduce la prima parte del primo verso dell'Odissea. Virumi Camena Insece Versutum Ovvero, Narrami o Camena l'uomo astuto Questa frase ci mostra subito la peculiarità del lessico dell'opera, che abbiamo elencato prima. Innanzitutto il verbo Inseco Questo verbo era già arcaico all'epoca di Andronico e non si usava più nella lingua parlata. Egli lo ha utilizzato per rendere il verbo greco Ennepe, che a sua volta non era più d'uso comune. Anche Versutus era un termine arcaico. Con queste parole il poeta si rivolge ad una divinità per chiedere aiuto nel narrare le vicende dell'eroe. Ma è da notare che Livi Andronico ha sostituito la Musa greca, quindi la divinità ispiratrice, con la Camena, che è una divinità il cui nome è di origine etrusca, ed era una divinità associata alle fonti, ma che poi, per l'assonanza tra il suo nome e il termine Carmen, cioè poesia, passò ad essere riconosciuta come la Dea ispiratrice della poesia, appunto. Quindi ecco che Livi Andronico sceglie subito di operare sostituzioni di nomi greci con corrispettivi latini. E' da notare inoltre la litterazione che lega a livello fonico la prima e l'ultima parola del verso, e cioè virum, che vuol dire uomo, e versutum, astuto. Interessante anche il frammento che dice Tradotto è «Perché nulla fiacca l'uomo più del mare impetuoso, anche colui che ha grandi forze presto lo annienteranno le onde che non danno scampo, o più letteralmente le onde pericolose». Il passo merico corrispondente, che si trova nel settimo libro dell'Odissea, era «Poiché io dico che nient'altro è peggio del mare per sconvolgere un uomo, pur se fosse molto forte». Dunque notiamo che Livi Andronico ha operato un ampliamento, con una tendenza a conferire al passo maggior pathos, maggior vivacità, espressività ed emozione per mezzo di un stile elaborato ricco di figure. Questo è il senso della traduzione di Livi Andronico, cioè un rifacimento al modello, ma anche autonomia artistica. Per quanto riguarda la fortuna dell'Odousia, essa fu a lungo utilizzata come testo scolastico, anche all'epoca di Orazio, quindi nel I secolo a.C. Meno fortuna, invece, ebbero le tragedie e le commedie di Livi Andronico, che vennero soppiantate presto da quelle del contemporaneo Nevio e degli autori successivi. Ma anche se queste opere vennero praticamente dimenticate, Livi Andronico fu citato ancora fino ai grammatici tardoantichi. Per il momento terminiamo qui. La prossima volta vedremo le tipologie del teatro romano e andremo avanti con gli autori dell'età arcaica. Ciao, ciao!